Allora, caro Maurizio, dobbiamo anche consegnare alcuni riconoscimenti. Sì, io chiamo qui Melinda Miceli, che è una delle giurate, ma cerchiamo di... Anche è una poetessa, ha ricevuto molti premi, tanti riconoscimenti, molto molto apprezzata. Perdonami Paola, Alfonso, possiamo avere il tuo microfono? Vieni, grazie. Ecco qua, grazie. Allora, Melinda, in sintesi un pochettino, vorremmo sapere ciò che fai, perché sei famosa, cosa hai fatto? Allora, il mio percorso biografico inizia come scrittrice di libri per le scuole, libri didattici di storia e di arte. Poi sono notata da vari editori, inizio a fare il critico letterario, il critico d'arte, finché entro nell'enciclopedia d'arte italiana. Diversi giornali mi mandano a chiamare per fare direttore artistico, perché già organizzavo mostre, gallerie, eccetera. Sono diventata anche direttore artistico di varie destate, tipo il Corriere Nazionale, stampa Parlamento. Sono referente internazionale di Art My Eur, che è il più grande portale d'arte del mondo. Ho diretto anche un museo privato. E quindi, insomma, quante cose, giovanissima, sono poetessa anche, poetessa internazionale, perché io scrivo anche per una casa editrice spagnola. Ecco, lo mettiamo bene in vista a favore di telecamera, così lo facciamo vedere anche a casa. Questo è il mio libro di poesia, una silloge, di poesia orfica e pitagorica, perché sono per gli antichi canoni stilistici della letteratura. Molti mi hanno definito la reincarnazione degli antichi poeti italiani. Io sono per la rievocazione anche del gotico, perché in tutte le mostre che ho fatto ho sempre cercato lo stile gotico, rinascimentale. Diciamo, l'arte classica, la pittura tecnica ed anche la scultura tecnica. Non amo le improvvisazioni nel mondo dell'arte, perché credo che sia un mestiere importante da portare avanti e non, come dire, da andare a ritroso, tralasciando quello che è il tecnicismo e la vera bellezza che Bramante e tutti i più grandi scultori ci hanno lasciato, sia nella pittura che nella storia. Quindi, vale a dire, non mi chiedete una poesia così in tempo reale, perché non se ne parla proprio. Prima bisogna, giustamente, battuta a parte, studiare e impegnarsi. Potresti, però, magari, metterti all'opera e scrivere per la prossima edizione, non so, dei versi, qualcosa che ti ispira a questo premio Lucio Dalla? Incontrare tanti ragazzi, ascoltare tanta musica. Potrebbe essere anche un valido spunto, magari, per una poesia. Una composizione apposita. Certamente. Senz'altro. Bene, grazie, ha preso l'impegno. Ha preso l'impegno, io ti consegno questa targa da parte di Premio Lucio Dalla per la tua carriera e per tutto quello che fai a favore della cultura e dell'arte. Grazie. Grazie, complimenti. Melinda Miceli. E viva le donne, viva le donne, super preparate. Grazie Melinda, grazie. Grazie.